Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Oggi torniamo a parlare di politica. Nei nostri studi ospite il deputato del Partito Democratico, Luciano D'Alfonso. Buonasera D'Alfonso. Buonasera e buon lavoro. Allora, con lei vorrei inquadrare innanzitutto il tema di questi ultimi giorni riguardante la nuova Pescara, tema su cui lei è più volte intervenuto. Esiste ora anche un progetto di legge regionale, prima firma del Presidente dell'Assemblea dell'emiciclo Lorenzo Sospiri, che da un lato posticipa al 2017 l'entrata in vigore del supercomune, dall'altro però mette un po' alle strette gli amministratori di Pescara, Spoltore e Montesilvano in un cronoprogramma che determina già delle scadenze immediate, come quelle di realizzare alcune fusioni su servizi essenziali già nei prossimi mesi. Qual è il suo giudizio su questa iniziativa? Intanto prendo atto che Sospiri Junior, io lo chiamo così, finalmente è passato da quella proposta di legge invotabile che venne presentata durante la legislatura nella quale io ero Presidente, che sembrava più un avviso della SIP che diceva domani nasce la nuova Pescara, ad una proposta adesso articolata, con la quale si accompagna un progetto di nascita della nuova Pescara attraverso l'integrazione dei servizi, l'allineamento dei documenti contabili, tecnici, amministrativi. La strada è questa che è scritta a chiarissime lettere nella legge regionale approvata durante la legislatura che mi ha visto Presidente della Regione. C'è però un tema, quello che delinea il lavoro fatto da questo Consiglio regionale con questa proposta che dovrà essere votata, anche attraverso il parere dei comuni che devono essere i protagonisti, nei fatti integra gli attuali servizi amministrativi. Noi dobbiamo passare nell'immediato, appena dopo, ad un progetto di fusione che faccia nascere una città completamente nuova, non solo una città frutto dell'integrazione amministrativa, ma una città che specializzi la propria capacità di lavoro nei confronti di persone, imprese e territori. Noi faremo un evento per cercare di tratteggiare aiutando le tre amministrazioni come si costruisce un progetto di fusione ambizioso, che faccia avvertire Pescara come una città dell'Adriatico, riferimento indiscutibile della macroregione. Quindi si facciano i curriculum delle tre amministrazioni per allineare le tre amministrazioni, ma l'obiettivo deve essere un progetto di fusione che faccia nascere una città completamente nuova, che si potrebbe immaginificamente chiamare Adriatica, ovviamente senza trascurare la dicitura denominante che è scritta negli atti normativi. Però deve nascere con la città nuova anche il cittadino nuovo di Pescara, colui il quale supera definitivamente i confini. Io non sono stato un entusiasta all'inizio perché mai si verifica che ciò che è grande funzioni rispetto a ciò che è piccolo, poiché le città si fanno riconoscere per bravura e qualità quando producono prossimità, non gonfiezza o ingrandimento. Ma i centomila autoconvocati che hanno chiesto una nuova forma urbana per le tre città all'indirizzo della nuova Pescara vanno ascoltati, quei centomila autoconvocati adriatici. Allora la fusione va fatta nella maniera migliore possibile, senza stanchezza, senza pigrizia, senza minimalismo, facendo in modo che alla fine ciò che nasce sia più capace di funzionare di ciò che c'era. Mi interessa anche le spinte che stanno rappresentando alcune categorie. Interessante la posizione di Federmanager, interessante ciò che dice l'Associazione Nuova Pescara, interessante la sfida posta sul tavolo anche dal mondo dell'Accademia. Evitiamo di trattare questa questione come una questione burocratica e anche lo Statuto deve generare un fatto completamente nuovo, non una fotocopia dei registri buffetti. In queste settimane si è accesa una polemica a distanza con il Presidente Marsilio e con altri parlamentari dell'area di centrodestra relativa alla risoluzione del tema degli spropi dell'asse attrezzato. Ecco, proprio in questa emittente Marsilio ha parlato di un problema che è stato lasciato irrisolto per 40 anni. Ecco, almeno nella diagnosi siete d'accordo, D'Alfonso? Io penso che il Presidente pro tempore della Regione sia giustificato a prescindere, perché lui conosce della Regione ciò che gli è stato sottoposto negli ultimi mesi. Sulla vicenda dell'asse attrezzato non può sapere che nel 1998 tutto l'asse attrezzato, nella parte più significativa e complessa, passò dal Consorzio di Bonifica e anche dall'allora sistema comunale di proprietà, che era il sistema comunale di Pescara, a favore di Anas. E chi curò quel passaggio era l'allora Presidente della provincia di Pescara, 1998, con Aurelio Misiti, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Nel 1998 facciamo una prima grande operazione di trasferimento della proprietà. Poi è rimasta in sospeso la questione degli espropri poiché, purtroppo, tra il 1999 e il 2001 sono stati fatti degli errori di comunicazione dal Consorzio Industriale all'indirizzo del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche di allora e della Direzione Generale Grandi Infrastrutture del Ministero di allora e di oggi. Mai si è rivelato da parte del Consorzio sia la quantità dei diritti degli espropriati certificata dalle sentenze, sia la quantità dei diritti che erano in itinere dal punto di vista dei lavori della magistratura civile a dita. Però quest'ultimo provvedimento risolve questo tema? Questo nuovo provvedimento ha soltanto un problema, non ha la capienza per coprire tutto il fabbisogno perché già da quando è stato votato il provvedimento era manchevole di circa 2 milioni di euro. Siccome nel frattempo in quelle ore è venuta al giorno un'ulteriore giusta aspettativa dell'Istituto Don Orione per 1 milione 640 mila euro, quindi la somma non è assolutamente capiente, ma non solo, c'è un problema proprio di diritto, manca la figura giuridica che provvederà a liquidare. Quando il Presidente della Regione dice che ci sono professori che vogliono indicare, se lui avesse la pazienza di leggere ciò che è scritto negli atti risalenti e ciò che viene rappresentato con premura adesso, probabilmente si potrebbe intestare il 49% del merito, così avere provvisto soltanto a 7 milioni per un'annualità e 7 per un'altra, io metto per iscritto che è impossibile che trovi soluzione. Quando vuole gli posso fare anche un appunto, oppure se accettasse facciamo un confronto anche in questa televisione. A proposito di cose che lei ritiene abbastanza non produttive nella loro genesi amministrativa, c'è il tema della realizzazione del Palazzo della Regione nell'area di risulta della stagione di Pescara. Ci spiega perché quest'opera infrastrutturale importante che investe il polmone principale della città ha dei limiti in sede di effettiva possibilità di realizzazione? Ma questo di volere fare il Palazzo della Regione nell'area di risulta è un pallone, non è neanche gonfiato perché già si è sgonfiato e non so come faranno a mantenere in vita un pallone maschera di questo tipo perché non ci sono le risorse, non ci sono le procedure, non ci sono le competenze per mettere in campo lì questo grande dispetto contro il futuro della città di Pescara. Lì deve nascere ciò che lo spirito creatore della democrazia urbana di Pescara ha sempre deliberato, un grande parco che faccia davvero identificare questa città come un giacimento verde al servizio non solo della Regione. C'è bisogno però di metterci dedizione, risolutezza, il contrario di certa sciatteria che a volte si vede quando si mette insieme carta e potere decisionale. Non è assolutamente possibile concepire lì il progetto, la procedura, il cantiere del Palazzo della Regione anche perché ovunque in Italia e in Europa quel tipo di infrastrutture di servizi amministrativi vengono collocate nelle periferie delle città che si mettono in movimento poiché un cantiere di quel tipo porta nuovo centro in periferia. Invece quel cantiere collocato al centro porta disordine, il contrario della civicità della città, il contrario dell'identità della città perché porta rumore, porta inganno, porta un gonfiore che non darà nulla alla città se non un vuoto da un certo numero di ore fino alla sera per poi ripassare al fine settimana dove mai nulla verrà incassato se si realizza questa impossibile attività di cantiere. Allora io dico a chi governa la città di Pescara, c'è tanto spazio in periferia che può ospitare il Palazzo della Nuova Regione. C'è spazio in periferia in corrispondenza per esempio di quello che si chiama il quartiere 3 di Pescara, di quello che è rubricato così dove tutta l'idealità programmatoria ha sempre pensato di far calare lì questa cittadella dei servizi della Regione. Non capisco come mai si organizzi questa dispettosità, c'è una sola ragione che può giustificare, provare a far passare del tempo mobilitando questa grande operazione di distrazione di massa. Tanto fra due mesi potremo rifare una trasmissione di questo tipo per vedere se ha fatto passi avanti. L'unica cosa che forse si potrà raccimulare è l'ingannevole soddisfazione per qualche professionista che verrà scritto su qualche atto e magari riceverà qualche quota di sorriso sotto forma di compenso economico. Lei attacca, come è giusto che faccia, una forza dell'opposizione sia le scelte di Masci a Pescara che quelle di Marsilio alla Regione. Però entrambi sono lanciatissimi verso una campagna elettorale che è già iniziata, Mascia ha realizzato un evento di rilievo nel fine settimana, Marsilio nei nostri studi ha confermato la sua ricandidatura, sono già partiti per una campagna elettorale che a Pescara e alla Regione durerà un anno e forse più. L'impressione che si ha dal punto di vista che appunto a parte i suoi argomenti sul merito delle questioni non ci sia un'organizzazione da parte delle opposizioni, del centro-sinistra, del PD rispetto comunque alla costruzione di un'alternativa a Pescara e alla Regione. Perché siete apparentemente così inerti da Alfonso? Intanto siamo ancora nella fase in cui i due cantieri devono prendere forma, quello della maggioranza e quello dell'opposizione. Per quanto riguarda la Regione io mi aspetto che nello sforzo che si è messo in campo di una nuova legge elettorale, per esempio lo spirito creatore del Consiglio regionale preveda anche il doppio turno. Sarebbe interessante che si faccia il collegio unico come pure è stato rivendicato dal Presidente della Regione e che accanto a questo ci sia questa fertilità del numero di preferenze a tutela del voto di genere e poi una grande riforma sarebbe il doppio turno, cioè un secondo turno per recuperare quel grande partito del non voto che corrisponde a 350.000 adesioni. 350.000 abruzzesi non votano alle elezioni regionali e non votano neanche alle elezioni più importanti che sono quelle della coppia Regione e Politiche. Allora io chiedo, si faccia anche in Abruzzo il doppio turno e poi vediamo se chi appare in vantaggio risulterà in vantaggio. Perché per adesso c'è la ventosità di un'appartenenza politica nazionale che può scomparire come si è verificato anche in altre circostanze, ma per non essere un sostituto di imposta elettorale il Presidente attuale della Regione e per vedere qual è il suo grado di gradimento reale accetti lui una sfida, uno scontro one to one con il secondo turno calato nella legge elettorale. Poi vediamo chi vincerà in questa Regione. Per quanto riguarda Pescara vi assicuro che ci saranno sorprese. Bene, aspettiamo. Per quanto riguarda invece il rapporto delle alleanze con il Movimento 5 Stelle in particolare c'è stata questa apertura da parte dell'ex senatore Castaldi rispetto a un campo largo che però è destinato a comunque vivere di riflesso dopo le tensioni legate alle politiche delle vicende nazionali. In Abruzzo si riapre il dialogo con il Movimento 5 Stelle a suo avviso, lei che è stato anche tra i più contestati quando era Presidente della Regione, quindi ha vissuto anche un dato personale del rapporto con il mondo pentastellato. Ma io sono stato anche super votato dai 5 Stelle al Senato quando sono stato votato Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Il ruolo dei 5 Stelle è stato determinante, presi tre voti in più del numero di maggioranza occorrente. Io riconosco che i 5 Stelle, ma anche le altre soggettività politiche siano stati determinanti quando abbiamo raggiunto risultati importanti, sia sul piano nazionale che sul piano locale dove abbiamo governato insieme. Pensiamo all'esperienza della Puglia dove c'è una collaborazione amplissima. Io non faccio un ragionamento di attenzione nei confronti dei 5 Stelle per un dato numerico, perché poi in politica i numeri vivono la potenza della motivazione politica, serve motivazione politica, consistenza culturale e politica. I 5 Stelle per me sono interessanti, importanti per il carico di innovazione che hanno portato e cito tre grandi questioni che a me appassionano ed è per questo che do molta responsabilità al vertice del mio partito, che non ha saputo valorizzare, che non ha saputo tenere da conto il dato significativo dell'innovazione culturale introdotta dai 5 Stelle. Il tema del reddito di cittadinanza, corretto, è assolutamente una misura fondamentale, perché noi non possiamo avere cittadini senza capacità di provvista per la propria vita. ed è un problema la povertà che riguarda questo paese, ma anche grandi pezzi territoriali dell'Europa. 5 milioni e 600 mila persone sono collocati nella zona della povertà e dell'impoverimento. Secondo tema che mi ha avvicinato culturalmente ai 5 Stelle è la loro intuizione sulla rigenerazione abitativa con finalità di resistenza sismica e di rigenerazione energetica. Questa idea, questa intuizione, è straordinaria per evitare che ogni 6 anni noi abbiamo bisogno di commissariare l'Italia attraverso interventi post terremoto che costano 12 volte di più. Allora questa idea che ha dato luogo al 110, che di sicuro ha funzionato sul piano macroeconomico ed economico reale, serviranno anche lì dei correttivi, ma è straordinario che trasversalmente si stia rinnovando il patrimonio abitativo dell'italiano medio e dell'italiano diffuso. Terzo, la revisione dei meccanismi di costruzione della era realità fiscale, passando dall'IRPEF delle persone all'IVA, fiscalità delle cose. E poi un ulteriore passaggio è una raccolta fiscale attraverso la valorizzazione dei dati, dei clic, delle informazioni, dei giganti dell'economia digitale che vanno sottoposti a tassazione, prima nel sistema nazionale e poi nel sistema europeo, valorizzando come cespiti i dati, i clic, le informazioni. Questo deriva dalla cultura riflessiva che è stata posta sul tavolo dei 5 Stelle. Chiaramente questo deve entrare in una infrastruttura culturale e politica della coalizione, tutto il centro-sinistra largo, ampio. Quello che deve, per esempio, porre sul campo anche il tema di chi è il cittadino europeo, qual è la nuova coppia di diritti e doveri. Io penso che il tema dei flaggelli, dei disastri, delle pandemie debba riguardare l'Europa con la capienza di forza che ha l'Europa. Va fatta una nuova configurazione dell'Europa, scrivendola, costruendola insieme, democratici italiani, democratici europei, con forze capaci di radicalità come i 5 Stelle e forze capaci anche, come si può dire, di costruzione progettuale come il terzo polo e poi soggettività civiche che vanno trovate e vanno con loro costruite un nuovo protagonismo. Su questo chi sono gli interpreti? Secondo me l'Abruzzo ha almeno 10 possibili candidati per interpretare questa fase nuova della regione. Sapendo che c'è il rischio del federalismo che taglierà fuori le piccole regioni se non costruiamo una cintura di salvaguardia. Su tutto questo è chiaro che l'Abruzzo corrisponderà all'appello che noi faremo. Da adesso al voto io mi aspetto che ci sia una legge elettorale che recuperi il grande non voto che purtroppo ha negativizzato l'Abruzzo. 350 mila abruzzesi sono anni che non vanno a votare. Nella premessa della sua risposta sui 5 Stelle, D'Alfonso, ho notato, credo anche i nostri telespettatori, una venatura polemica rispetto alle strategie adoperate nell'ultima campagna elettorale delle politiche. Insomma, il suo giudizio sulla segreteria di Enrico Letta? Io penso che Letta abbia patito e pagato la sua estraneità rispetto al territorio nazionale e locale dell'Italia. Si può fare una campagna elettorale senza alleati, io non l'avrei mai fatta, ma non si può fare una campagna elettorale senza alleabili. Noi ci siamo trovati senza alleati e senza alleabili. Mi aspetto che da questo congresso venga fuori il meglio possibile della classe dirigente nuova, componendo le energie di tutti. Non vedo giganti, vedo però una grande voglia di ricominciare e poi mi aspetto che quello che il congresso del PD metterà sul tavolo degli italiani è una capacità di ricomporre un'alleanza, una carta delle priorità. Per esempio, io mi pongo un problema, come si crea la ricchezza nuova e come la si divide? È un tema che in democrazia non si può non affrontare. Secondo, come si ripara la democrazia italiana rispetto al non voto? Noi abbiamo un numero di 18 milioni di italiani che non va a votare. Come si ripara il creato e come si supera questa assuefazione che noi abbiamo anche in Italia rispetto alla guerra? Noi ci siamo abituati anche alla guerra, è scomparso lo stupore, sembra quasi un segmento di Netflix. Su tutto questo mi auguro che i democratici sappiano dare un colpo significativo. E poi vorrei dire, le grandi malattie che stanno trucidando il futuro di giovani generazioni, le malattie, e non mi riferisco soltanto ai cancri, al tumore, mi riferisco anche a quello che deriva dalle malattie infettive. Io su questo mi aspetto una rivoluzione sull'investimento derivante dal bilancio dello Stato. Quando Obama lasciò la Presidenza degli Stati Uniti, lasciò una cifra gigantesca in termini di miliardi di dollari per fare ricerca sul fronte delle nuove malattie. Allo stesso modo deve fare l'Italia, l'Italia come paese e l'Italia in Europa, perché se non c'è il diritto alla vita, la cultura della vita, la politica non ha senso. Lei ha assistito nell'ultima ora anche sicuramente al dibattito tra i quattro candidati alla segreteria del Partito Democratico. Le chiedo un giudizio telegrafico su ciascuno di essi. Partiamo dalle donne. Paola De Micheli. Per quanto mi riguarda non è votabile. Eli Schlein. È interessante e può dare un grande contributo. Gianni Guberlo. Il migliore di tutti. Stefano Bonaccini. Io lo voto. Ecco, mi pare che sia più telegrafico di così difficile fare. D'Alfonso, in queste ultime ore si è tornato a parlare di un tema che lei ha affrontato anche, non soltanto nelle vesti parlamentari, ma anche quelle di promozione, di occasioni di incontro, di convegno, di approfondimento sui temi della giustizia. Quello delle intercettazioni, proprio anche alla luce della cattura del boss Matteo Mezzina De Nara. Qual è il suo giudizio anche sulle fibrillazioni che si stanno registrando internamente alla maggioranza di Giorgia Meloni sulle posizioni del Ministro Nordio? Io sono affascinato dalla libertà di pensiero del Ministro Nordio. Mi auguro che gli permettano di fare tutto quello che di giusto lui ha in mente di cantierare. Per esempio, ho parlato anche personalmente con lui sulla temporaneità dell'assegnazione delle figure della Polizia Giudiziaria. Ci sono figure di Polizia Giudiziaria che restano al servizio di questo, di quel magistrato per decenni, rischiano di essere più potenti e non uso un termine a caso dello stesso pubblico Ministero. A volte circuiscono, a volte maneggiano le informazioni, a volte fanno uscire dati riservati per costruirsi anche una cittadinanza influente in questa o in quella città. Ho parlato con Nordio, riferendo anche casi specifici, mi ha detto che condivide la mia idea di rendere temporanee le assegnazioni della Polizia Giudiziaria. Le intercettazioni sono fondamentali e anche la quantificazione dei reati, per quanto mi riguarda, non corrisponde esattamente a quello che pure è stato collocato nel dibattito pubblico degli ultimi giorni. Serve dai reati corruttivi fino ai reati mafiosi e a quelli di associazione terroristica. Però è la gestione della riservatezza di quelle informazioni che deve essere implementata e aumentata, altrimenti le intercettazioni diventano uno strumento di potere. E se io dico questo è perché sono molto consapevole e a riguardo ho fatto anche un preciso esposto denuncia all'autorità giudiziaria. Le sue posizioni però non sono perfettamente allineabili con quelle del suo partito e del centro-sinistra e della battaglia parlamentare soprattutto che lei dovrà andare a sostenere. Accade spesso che io non sia in linea perché come si dice in Emilia Romagna, quando si parlava di traffico, mi raccontava Vasco Errani, tu in Emilia Romagna per parlare di traffico devi andare a vedere come funziona la rotatoria. Io la rotatoria ogni volta che ne parlo l'ho studiata, l'ho vista all'opera. Io su alcuni istituti della giustizia, del codice di procedura penale ne so di più di chi l'amministra perché sono un utente riuscito sulla mia pelle. Ho sanguinato in ordine ad alcuni abusi. Tant'è che io nei prossimi giorni parlerò pubblicamente. Il 10 di febbraio ricostruisco dieci anni dalla mia piena assoluzione e sono stati dieci anni che potevano dare molto di più alla città di Pescara. D'Alfonso, come giudica questi primi mesi di attività in Parlamento? Qual è la differenza rispetto alla legislatura precedente chiusasi con il governo Draghi? Intanto lì ero presidente di commissione parlamentare, una commissione anche centrale. Ho potuto interessarmi di numerose questioni, molte delle quali portate anche a segno. I 105 milioni di euro portati per la nuova Pescara sono il frutto del lavorio in commissione. Così come la norma per il sottosuolo. Noi abbiamo imposto un piano regolatore del sottosuolo a tutte le città italiane. Ho lavorato per fare in modo che il sottosuolo fosse sicuro. Abbiamo lavorato per ritrovare dignità ai responsabili unici dei provvedimenti. Adesso sto facendo un altro lavoro. Sono deputato in commissione finanze. Faccio l'opposizione. Sono in attesa di un ruolo che non rivelo adesso, che mi permetterebbe di essere di aiuto all'economia pubblica e privata italiana. Vediamo quando questo arriva. Ah, va bene. Allora ci rivediamo casomai per dare questa notizia in anteprima. Me l'aspetto entro il mese di febbraio. Vediamo. Bene. E con questa notizia in coda, con questo annuncio a fine trasmissione, lei non è scaramantico, quindi possiamo dire che tranquillamente c'è questa aspettativa. Noi ringraziamo. Posso cogliere l'occasione per fare due inviti. Il 27 di gennaio al Cinema Sant'Andrea avremo il presidente della regione Puglia, il sindaco di Firenze e soprattutto un gigante del sindacato e della cultura sociale italiana, Marco Bentivogli, che sta animando una start-up che si chiama Base Italia per la democrazia. Ci saranno anche tanti amministratori. Facciamo questa iniziativa per rianimare il Partito Democratico e fare in modo che torni ad essere un cantiere per i diritti e i doveri degli italiani. E poi il 10 di febbraio farò un evento assieme a tanti amici per ricordare i dieci anni della mia assoluzione. Se non ci fosse stata tutta quella giuridicizzazione, Pescara avrebbe conosciuto un secondo tempo della sua vita, una vita orgogliosa, ambiziosa e anche di grandi realizzazioni. Grazie al deputato del Partito Democratico Luciano D'Alfonso e buon proseguimento di serata ai nostri telespettatori. Arrivederci. Perfetto.